Musica La Basilicata entra a far parte delle regioni direttamente collegate alla comunità di San Patrignano è nata infatti a Matera l'associazione Amici di San Patrignano realtà che farà da primo contatto per tutti i ragazzi e le loro famiglie che necessitano di aiuto l'associazione è stata presentata a Matera al Teatro Duni in occasione di uno spettacolo teatrale di prevenzione organizzato proprio dalla comunità di San Patrignano rivolto principalmente ai ragazzi delle scuole superiori in occasione tra l'altro della loro assemblea di istituto Bene, ne parliamo con Giuseppe Bitetti, presidente dell'associazione Amici di San Patrignano di Matera e con Francesco Panetta dell'ufficio accoglienza della comunità di San Patrignano grazie di essere qui e benvenuti Presidente Bitetti, allora una realtà che nasce a Matera, riprende un po' il lavoro di qualche anno fa un aiuto per tutta la Basilicata e per avere un primo contatto con la comunità di San Patrignano Certo, c'è stato un primo contatto già anni fa con San Patrignano e oggi l'abbiamo ripreso la città di Matera è come se avesse chiesto un aiuto perché comunque abbiamo già ancora prima che nascesse la comunità eravamo già impegnati in questo quindi abbiamo ascoltato famiglie e ragazzi che avevano bisogno di aiuto è nata questa necessità e fortunatamente grazie a San Patrignano si è creato questo contatto diretto con la nostra associazione In Basilicata, dalla Basilicata sono stati ospiti della comunità di San Patrignano ben 173 ragazzi ce ne sono attualmente 7 di cui sede la provincia di Matera la Basilicata quindi aveva bisogno di questa realtà associativa? Assolutamente, i ragazzi sono 7 in percorso ma di quei 176 100 sono stati reinseriti e la risposta era necessaria perché sono sempre più i ragazzi che si avvicinano al mondo delle sostanze senza capire il pericolo e rendersi conto che è una strada sbagliata rispetto a quello che potrebbe essere la risoluzione dei loro problemi San Patrignano da oltre 35 anni accoglie ragazzi provenienti da tutta Italia ma anche dal resto del mondo sono passati ben oltre 25 mila ragazzi da San Patrignano e questa realtà è nata per la volontà di una persona carismatica come Vincenzo Muccioli che negli anni 70 quando la piaga della tossicodipendenza dilagava nel mondo non riusciva a darsi una spiegazione del perché e come mai i ragazzi annullassero la propria vita e risolvessero i loro problemi in quel modo la sua caparbietà, la sua tenacia, il suo altruismo, la sua generosità ha fatto sì che questa realtà nascesse ed arrivasse fino ai giorni d'oggi e ai giorni d'oggi è composta da 1300 ragazzi attualmente in percorso da 100 volontari che hanno dedicato la propria vita, le proprie risorse, il proprio tempo a dare una mano agli altri cioè a concedere una seconda possibilità a coloro che avevano fatto questa scelta sbagliata attualmente San Patrignano si occupa principalmente nella sua mission di integrazione, di formazione e reinserimento e concepisce anche e soprattutto, potrebbe essere tranquillamente un controsenso, la prevenzione perché è consapevole benissimo che la piaga della tossicodipendenza è una piaga diffusa che colpirà come comunque dei ragazzi ma nel suo intento è sempre quello di colpirne di meno e di quanto più recuperarne perché la vita non ha prezzo e quindi è necessario essere presenti lo fa attraverso le sue associazioni, Matera diventa la 38esima associazione aperta in Italia e nel mondo perché San Patrignano non è solo presente in Italia, la maggior parte delle regioni italiane è presente anche nel mondo, è presente in Inghilterra, è presente in Scozia, è presente in Francia, è presente negli Stati Uniti a vari contatti in Sudafrica, in Brasile, è sempre più diffusa, è sempre più capillare e tende sempre di più a trasferire il messaggio che la droga è una soluzione sbagliata Nonostante ciò si tende purtroppo ancora a nascondere, a non voler affrontare il problema, a nascondere la testa sotto la sabbia Certo, è sempre difficile per un genitore ammettere che sia un figlio drogato e quindi il nostro intendo è quello di far uscire la testa da sotto la sabbia per non vergognarsi perché per risolvere il problema della tossicodipendenza Non bisogna vergognarsi, può succedere a chiunque e bisogna combatterla, bisogna agire A tal proposito ci sono tanti esempi positivi, non a caso lo spettacolo presentato a Matera in occasione della presentazione dell'Associazione Materana di Amici di San Patrignano racconta proprio la storia di una ragazza caduta nel tunnel della droga ma che poi è riuscita a sconfiggere il suo percorso a sconfiggere quello che stava intraprendendo raccontandolo proprio agli studenti Sì, infatti lo spettacolo odierno è uno spettacolo, lo specchio che rientra in un progetto ben più ampio che è quello di prevenzione come dicevo prima che si chiama WeFree WeFree ha l'obiettivo di incontrare sempre più ragazzi ormai la soglia si è abbassata sempre di più partiamo dalle scuole medie fino ad arrivare alle superiori e senza nulla togliere alla collaborazione che abbiamo con le università nell'ambito della ricerca e ci rendiamo sempre più conto che informare far conoscere, trasferire, trasmettere l'importanza di non avvicinarsi alle sostanze è sempre più diffusa WeFree infatti manifesta la sua concretezza oltre che incontrando i ragazzi durante tutto l'anno presso la comunità di San Patrignano attraverso una due giorni che si tiene ad ottobre dove insieme a dei ragazzi che si chiamano i Change Make World che portano il loro esempio da ogni parte del mondo trasferisce le esperienze positive di una vita sana e normale fatta di arte, fatta di sport fatta di interessi, passioni che possono trasferire nei ragazzi la voglia di vivere e allontanarsi sempre di più dall'idea che la tossicodipendenza, la droga, sia una soluzione Una volta entrati in comunità che tipo di percorsi vengono intrapresi? Il percorso riguarda, è soggettivo il percorso riguarda ogni singolo ragazzo non esiste un percorso stereotipato perché ogni ragazzo è diverso ogni ragazzo è unico ha una sua storia, ha un suo passato ha le sue esperienze viene accolto viene accolto in un gruppo in questo gruppo viene affiancato viene affiancato da altri ragazzi che prima di loro erano stati a loro accolti e viene sostenuto viene supportato viene affiancato in tutte le sue sofferenze perché scegliere un percorso comunitario in cui sei spoglio di tutto e hai messo in mano ad altri la tua vita non è facile specialmente quando fino ad allora hai vissuto delle convinzioni in cui tutto quello che facevi era assolutamente giusto viene affiancato nei momenti in cui viene affiancato viene guidato in una fase di crescita questa fase di crescita viene sempre caratterizzata dalla formazione perché la formazione è importante formare i ragazzi ed educarli ad una vita serena normale attraverso lo sport attraverso l'arte attraverso l'istruzione rende le persone sane le allontana sempre di più da questa piaga e le spinge a crearsi un futuro sereno equilibrato una famiglia per giovani che hanno smarrito la strada una comunità di vita assolutamente una grande famiglia non è una comunità di recupero nasce come una comunità di recupero ma si evolve come una comunità di vita è una casa è una famiglia dove valori principi come l'amore la solidarietà la comprensione sono all'ordine del giorno e sono fondamentali per potersi sostenere per poter andare avanti e affrontare quel percorso che tanto duramente ti mette davanti quelli che erano i tuoi limiti facendoti li riconoscere facendoti scoprire perché a volte non si conoscono nemmeno e insegnandoti e dando degli strumenti per poterli gestire ma soprattutto ti dà cosa? ti dà degli strumenti per poter riutilizzare quei limiti sotto forma di attitudini sotto forma di virtù perché ogni ragazzo non solo ha dei limiti ha delle virtù ha delle capacità e a San Patrignano con la formazione con l'educazione con le istruzioni cerchiamo di valorizzare tutto ciò Presidente i dati non sono molto aggiornati per quanto riguarda la Basilicata ma certo non sono confortanti per quanto riguarda l'utilizzo di droga beh certo non sono aggiornati però noi siamo sul territorio quindi diciamo prendiamo i gridi di aiuto dei genitori quindi ci rendiamo conto che la situazione non è migliorata dal 2014 ad oggi ma penso che sia peggiorata addirittura quindi quali saranno i prossimi step per l'associazione? è stata presentata ufficialmente ai ragazzi ci sarà immagino un momento di presentazione alla comunità in generale per ora c'è un contatto telefonico ma quali saranno i prossimi step dell'associazione? Allora noi siamo presenti a Matera in Basilicata Matera è il punto di riferimento della Basilicata quindi noi siamo disponibili tutti i giorni in qualsiasi momento della giornata ci siamo insomma almeno per un primo confronto un primo contatto certo poi voi sapete come noi siamo noi faremo le prime valutazioni poi assieme a a San Patrignano decideremo come intervenire per ogni singolo ragazzo e ci muoveremo in questo modo fondamentale anche il supporto alle famiglie assolutamente il percorso è parallelo perché un ragazzo che entra a fare un percorso di cambiamento oltre a scoprire se stesso si rende conto di quello che ha lasciato e nel farlo si rende conto che uno dei primi punti da cui partire è la famiglia e la famiglia assolutamente ha bisogno dello stesso supporto perché le famiglie nel momento in cui il ragazzo termina il percorso nella stragrande maggioranza delle volte riaccolgono i ragazzi in casa e se non hanno fatto anche loro un percorso parallelo di cambiamento di comprensione di messa in discussione rispetto a quello che ha causato quella piaga quella disgrazia chiamiamola così non riusciranno mai a comprendere appieno quali sono stati le fasi evolutive di questo cambiamento questo al fine di mettere in chiara una cosa che per quanto l'ambiente la famiglia la scuola possono dare degli strumenti delle indicazioni per poter vivere una vita regolare tante volte nel fare si sbaglia e per capire dove si è sbagliato bisogna riconsiderare tutto un valido aiuto per i ragazzi e le famiglie che sono in difficoltà in questo momento necessitano di un supporto con l'associazione Amici di San Patrignano di Matera un riferimento per tutta la Basilicata e un collegamento diretto con la comunità di San Patrignano grazie al presidente Giuseppe Bitetti e a Francesco Panetta dell'ufficio accoglienza della comunità di San Patrignano grazie buon lavoro noi ora ci fermiamo in linea alla regia